Visto che qua al mio fianco è Chesi, che è un nuovo voto di InterTV. Ciao Chesi. Buonasera a tutti, buonasera ai nostri amici interessi. Allora, tu hai... Wow, mi piaci tutto. Così ti ha scritto wow. Wow sarà, wow. Anzi, in realtà è W, W. Sì, è W, W. Sì, è W, 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 mi piace tutto. Ma veramente, guarda, è facile, no? W, 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 mi piace tutto. Non cominciare a ridere, eh? Poi settimana scorsa che non ho fatto neanche i saluti dopo. W, 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 mi piace, si saluta una canzone. Allora dopo mi fa vedere le foto. Allora dopo. Non è veramente memorabile che ricorda questa annata fantastica del 2010. è un'idea così è un'idea per differenziarsi dobbiamo metterci tre palle tre palle da calcio non cominciare è finito non cominciare